lexus ux 300 e in anteprima qui al fleet motor day il risultato di oltre 20 anni di esperienza nel campo dell'elettrificazione dell'auto con la nostra tecnologia full hybrid rappresenta il primo prodotto elettrico puro del gruppo toyota ed è un crossover premium compatto dal design accattivante e dagli elevati contenuti tecnologici la nostra lexus ux 300 e è dotata di oltre 200 cavalli da una coppia istantanea di 300 newton metri il motore alimentato da una batteria da 53 kilowattora agli ioni di litio che è capace di garantirle un'autonomia testata ancora in fase di omologazione in ciclo n e dc combinato di 400 chilometri gli elevati contenuti tecnologici sono anche a piena disponibilità del dell'utente perché grazie all'applicazione lexus link sarà possibile comandare la vettura da remoto ad esempio azionando l'aria condizionata oppure pianificando la ricarica secondo le esigenze del guidatore grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti